Dopo la Fiesta anche la sorella più grande Focus si astonizza per così dire con la griglia a zeppa di lamella e i fari che si allungano verso il passaruota Modifiche non solo all'esterno ma anche all'interno dove sotto consiglio dei Fordisti la plancia è stata ridisegnata in funzione di una migliore ergonomia quindi sono diminuiti i tasti ma si è allargato lo schermo fino a 8 pollici con il nuovo sistema SYNC 2 Sotto il cofano invece nuovi 1.5 sia benzina che diesel con potenze da 150 a 180 per i benzina e da 95 a 120 per i diesel Grazie a tutti!